Cento a Genova, giocare per la Juve, indossare la maglia della Juve vuol dire in un certo senso rappresentare un paese perché i tifosi della Juve arrivano da Torino ma soprattutto da tutta Italia e in particolare dal sud Italia noi abbiamo incontrato tanti, per esempio alcuni abbiamo saputo che sono partiti in pulma da Foggia e allora io dico bisogna veramente amare la propria squadra per farsi...